Ben ritrovati da MeteoInCalabria.it. L'alta pressione torna ad invadere il nostro territorio garantendo bel tempo. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Oggi sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature in rialzo in particolar modo nei valori massimi. Domani sempre sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature in lieve aumento. Vediamo ora invece il comportamento di mari e venti. Oggi calmo poco mosso il Tirreno e del Golfo di Corigliano, mosso molto mosso lo Ionio Centro Meridionale, venti di direzione variabile, mediamente da quadranti settentrionali. Domani ancora calmo poco mosso il Tirreno e del Golfo di Corigliano, mosso lo Ionio Centro Meridionale, venti di direzione variabile, mediamente ancora da quadranti settentrionali. Per ulteriori dettagli vi ricordo di consultare il nostro sito internet www.meteoincalabria.it. Per oggi è tutto, grazie per la cortesia attenzione e appuntamento a domani.